ok ecco oh nita ok ehi ehi la mia ma adesso ci partiamo ehi ehi oh oh il schieno è morto non lo so e poi io l'ho asciuta da mettermi e poi io l'ho asciuta da mettermi e poi io l'ho asciuta da mettermi e poi qui io l'ho asciuta da mettermi e poi qui io l'ho asciuta da mettermi e 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 oltre agli scherzi proviamo 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 sto facendo una perché berlin c'era 414 trofei se vado a perdere per prendo io lo so qua 5 e comunque è molto va bene rispetto ai raccoglietti c'è oh oh stai stai no ne no no allora si vedremo nella terza parte e e cacca blum ok cacca blum no 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 tutto loro stanno a fare kill tutto loro aire il tutto è buono a farmi vincere aire e tu sei la cosa la più sposta al mondo eh ma non ma è ma era molto se si fa salmone o non si vede o non si vede a me oh vedi che sei forte sono morto io non ho manco stasano e quindi che si tolta double takedown one takedown left oh 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 Grazie a tutti.